Solo ieri hanno fatto scalpore le immagini della banchina del porto di Torre del Greco, completamente invasa dai rifiuti della sera prima. Bottiglie di vetro, bicchieri, piatti di plastica, resti di cibo, tutto lasciato dai giovani che hanno trascorso lì il weekend. Immediatamente la passeggiata è stata ripulita dal comune, infatti già questa mattina la banchina risulta pulita e ordinata. Tuttavia i disagi legati alla movida in zona porto sono ben più estesi. La sporcizia della banchina non è stata solo un caso, ma è la condizione solita ogni lunedì sera, come ci segnalano persone che frequentano abitualmente il posto. Il posto non è disprezzabile dal punto di vista dell'ambiente panoramico, però se le autorità avessero un po' più cura di praticamente dare maggior risalto alla pulizia, poi sostanzialmente nelle serate dove la movida si rivolge anche da queste parti, sarebbe ancora un ambiente da praticare anche con le famiglie. Dove c'è il nuovo molo, il sabato sera e la domenica sera c'è ovviamente, immancabilmente, una movida di ragazzi che chiaramente producono una montagna di rifiuti veramente indiscrevibili. Quello che non va è che ci sono soltanto due o al massimo tre contenitori di modeste proporzioni che anche se fossero cinque di quei contenitori comunque non conterrebbero tutta l'immondizia che si produce, quindi sarebbe necessario con pochissima spesa almeno mettere altri tre o quattro contenitori ed eliminare quello sconcio che chiaramente tutti i lunedì mattina si verifica in contestualmente. Se poi proseguiamo percorso Calibardi la situazione è ancora più grave. Sono pochissime gente per me, è un po' di casino, non si può camminare nemmeno la strada. Non si capisce proprio nulla qui, non si parchece più, finire tre, quattro, cinque a mattina e non si torna più. Siamo inquietati, hanno fatto la strada loro perché ho fatto qualcosa ma non fanno niente perché siamo giocati per un'esercizio, gli rifiuti così, nessuno si interessa, non si ne crea un caprabbolo così. I spazzini non vengono mai, anni e anni mi attraversano in genere di spazzatura. Gli residenti denunciano il disagio che vivono ogni sera, quando tantissimi giovani si riuniscono fuori ai locali della zona. I marciapiedi diventano impraticabili a causa delle macchine ferme in sosta selvaggia e gli schiamazzi tengono sveglie le persone fino a notte fonda. Anche oggi, martedì, abbiamo potuto notare i resti di questa movida depositati indiscriminatamente ai bordi delle strade e nelle aiuole.